Ciao a tutti ragazzi, ancora una volta da bordo di mitico Guidi 156 Siamo ad Antigua e partiremo tra pochi giorni per la RORC Caribbean 600 In questa edizione saremo in tre, con Charles come sempre, io e questa volta abbiamo un grandissimo valore aggiunto che è Michael direttamente dalla Svezia Ciao a tutti, benvenuti di nuovo a bordo di Guidi 156 per una nuova course Siamo davvero molto contento di potere e continuare questa collaborazione con Guidi Surturtro per questa course che è abbastanza mythica, la Caribbean 600 Questa è un grande tour in le lì al vento, monta fino a Saint Martin, descende fino a Guadalupe Quindi è una course molto engagata in Alizia, con molti venti, molti meri E quindi speriamo di ottenere l'epinco del giro Grazie a tutti a Guidi e al fondo del giro Ciao a tutti, sono Michael e questa è la mia 6a, la Caribbean 600 E ho l'ho e l'ho e l'ho e l'ho e l'ho di fare di sailare con due super bravi E siamo contenti di avere Guidi per aiutare Ciao a tutti Ciao a tutti Siamo in Antigua preparando la Royal Caribbean 600 Una volta che siamo a portare Guidi 156 Il nostro sponso per questa raccoglia Quindi grazie a Guidi Ciao a tutti Ciao a tutti! Sono il skipperio del 156 che è un Mach 3 class 40 quindi un po' abbastanza buona È un po' abbastanza per questo tipo di raccoglie per andare all'islande con manoeuvringi ma con le lungo la capacità di andare molto veloce per arrivare in un'esplosione possiamo fare le migliori delle condizioni e speriamo di fare una buona raccoglie La cosa bella con la Carribean 600 è molto complessa da un punto di vista navigatoriale in questo video di rimuovare per la Carribean e la Carribean per l'abbiamo per la Carribean e la Carribean per la Carribean per la Carribean Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ciao a tutti da Guidi, 156, ultimo giorno di navigazione, vedete proprio lì davanti, redonda, dobbiamo girare questa isoletta e poi andare verso Antiqua che è l'isola una più grande. Allora, abbiamo la finale di Redonda. Come abbiamo detto, abbiamo avuto un gioco a board, la Hydra, la bocca, ogni volta che si chiama il cuore, si arriva e si vede in un'altra volta, e si vede in un'altra volta. Allora, è stata un'ottima gara per loro, sono molto felice, perché si vede in un'altra volta, è stato molto più difficile per loro, perché non avevano le potere che abbiamo. È una classe molto amica, tutti, da parte a parte, in un'altra classe, è molto amica, è molto competitivo. È una classe molto buona, le design, le class rules sono buoni. Seconde... Vapoi, grosso. Vapoi, ragazzi... Grazie a tutti.